Ma quindi i tempi di recupero sono importanti o no? Non sono importanti nel momento in cui per fare il mio allenamento per colpa di un recupero basso devo calare i carichi. Quindi se per fare il mio 4x8 perché ho segnato 2 minuti di recupero devo calare i carichi set per set non va bene tenere un recupero fisso. Quindi priorità da questo punto di vista nella maggior parte dei casi, priorità un recupero che faccia recuperare bene e anzi permettere di aumentare il carico nelle serie. Però è anche vero che se in tutte le serie devo recuperare 3, 4, 5 minuti in ogni esercizio vuol dire che sono molto poco condizionato, che non ho un gran conditioning e che sicuramente gioverei da utilizzare tecniche che mi permettono di andare a migliorare questo punto di vista. Quindi i recuperi non sono importanti ma è anche un segnale se io devo recuperare troppo a lungo.